Bentornati sul mio canale, oggi vi propongo 5 movimenti in spin on static, il mio workout preferito. Quindi vi lascio con questi 5 movimenti di livello avanzato, mi raccomando se non li avete mai provati, evitate, ok? Perché rischio sempre quello di farti male quando si provano dei movimenti troppo difficili per il proprio livello. Se invece avete già iniziato a provarli, li state sperimentando, ve li lascio anche al rallentatore così da poterli studiare meglio. Vi lascio al video, buona visione! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.